Grazie alla collaborazione di più enti, l'Unione Italiana Ciechi del Piemonte ha dato il via ad un corso di formazione per esperti nel settore dell'urbanistica al fine di sensibilizzarli su questioni annose. Di che cosa si tratta? E' la conclusione di un lungo ragionamento fatto in questi ultimi periodi perché ci siamo resi conto come associazioni aderenti alla federazione delle associazioni nazionali disabili tra cui l'Unione Italiana Ciechi e i povedenti che nonostante la normativa dia delle disposizioni ben precise sui temi di barriere architettoniche, progettazione universale, Tutto questo non ha ancora trovato una giusta applicazione e noi disabili ci troviamo a dover confrontarci quotidianamente con gli ostacoli dettati da una progettazione così sbagliata o lasciata molto spesso all'ingegno e alla fantasia magari di chi progetta che non conoscendo nello specifico le esigenze delle varie categorie, e di disabilità tende a costruire, a progettare su quelle che sono le proprie conoscenze. Diversi partner che collaborano a questa iniziativa? Sì, in primis Lanci Piemonte che ha contribuito insieme all'IRIFOR, l'Istituto per la ricerca e la formazione e le riabilitazioni, dobbiamo anche ringraziare l'ENAIP che è l'agenzia di formazione che ci ha supportati organizzativamente in questo evento, e il patrocinio e l'ospitalità della regione Piemonte per svolgere i vari moduli previsti di questo corso. Importante è la collaborazione di ENAIP Piemonte? Sì, ENAIP da sempre ha attenzione ai temi della disabilità e ha congiunto questa attenzione a interventi professionali che già svolge rispetto ad architetti, a geometri e a detti del settore, che possono arricchire quindi la propria professionalità su tematiche molto specifiche. Questi interventi sono rivolti soprattutto a professionalità che ho già citato, per entrare i professionisti, gli addetti a settori, i tecnici comunali soprattutto e gli addetti all'urbanistica, nei temi dell'effettiva accessibilità universale.